Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Mod Oggi parleremo di una mod aggiornata 1.8 ragazzi, ripeto 1.8 La mod di cui andiamo a parlare oggi si chiama precisamente Trophy Slot ragazzi E' una mod per forge, non fml, è forge ragazzi, guardate in alta sinistra è forge Allora, questa mod cosa fa? Se io vado ad aprire l'inventario abbiamo tutto l'inventario bloccato da questi segni Non potremo metterci niente in questi spazi, quindi abbiamo un solo slot di inventario Possiamo sbloccarli facendo gli achievement Ok, era un attimo di latenza per colpa del mondo amplifiad Allora abbiamo sbloccato l'inventario, in basso a sinistra leggerete Ulocked ad Inventory Slot Guardate, adesso ne abbiamo due, quindi questa mod sarebbe carina da vedere magari in una captive Minecraft o simili In un impacchetto particolare creato apposta per questa mod, sarebbe veramente interessante Va bene ragazzi, questa era la mod, una mod velocissima, rapida, proprio rapida, rapida Giornata 1.8 forge, troverete il link in descrizione e passate anche dagli altri canali dei EFBucksingoli Lasciate un mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto E niente ragazzi, dopo questo posso arrivare soltanto, ci vediamo alla prossima puntata delle mod Grazie a tutti Grazie a tutti